Grazie a tutti di essere intervenuti Grazie per la traduzione Ci conoscevamo Dove sono le ragazze? Dove sono le ragazze? C'è molto bene Lo togli? Allora, sì, l'abito ha un perché ben preciso Non è che me lo tolgo Non è esattamente così, un po' diverso Ma siccome abbiamo tanti amici inglesi e olandesi qua La solita cosa che guardi Sto guardando il valore delle visce rispetto a dove sono posizionato Esatto, però siccome abbiamo tanti amici che parlano solo in inglese Se voi siete d'accordo E' perché qua 1000 e qua 100 Esatto Io, se siete d'accordo Io farei una spiegazione in inglese E voi fate la traduzione Paolo, prima che tu parta con la spiegazione Ti vuole ricordare che c'è suo marito in sala Per cui non possiamo fare gli stupiditi C'è anche mia moglie Va bene, vai in Roma Mi spiego la mia mia vestita Ok Allora, questo vestito è fatto di fish di virgin poker And there are different amounts for different chips all over the place E ci sono varietà con muffins Rispetto al punto dove sono posizionate Esatto And if someone wants to donate to our fund for abruzzo Se una vuole prenderle e quindi donarle a questo affondo abruzzo Esatto I will come down and give you this ad ship And you have to give me that much money Detto a come traduci questo, eh? Io ho scelto E la do 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 Io ho scelto, ve la do E poi ti pagate E la piscina 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 Ma piscina E la piscina E la piscina Ultimamente va un po' così Poi qualcuno mi dà una roba Poi pagate Poi c'è qualcuno che riprende Sarete gli utilizzatori finali di queste piscina Ecco, praticamente Più o meno Però Andrò in giro tra pochi secondi Oltretutto per cui Questa è E Spero che tutti compratano le mie piscina Così potranno giocare E Deficina Così potremmo aiutare Potrebbe aiutare L'Abruzzo E So that's the idea Ecco Se ne andiamo Eccoli, vedi Come si dice Ti dirà più Un velo di E che è un carro di voi E va bene Quest'uomo qua Io vorrei che fosse Io da grande voglio essere Richard Branson Ma non sei già Eh, è vero No, c'ho delle differenze con lui purtroppo Ma Va bene Allora Adesso Jessica sarà tra voi Sì, vedi Sì, vedi Sì 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 Sì